Musica In questo nuovo video oggi siamo in una personalizzata con un amico SD o AF che non è altro che Gabriele L'avete visto in un altro video tipo mi sembra che partita brutta mi sembra Ho cercato di... ho fatto un video prima di classificata l'abbiamo vinta 4 a 1 Solo che la Play ha deciso di perdere la clip e quindi non ce l'ho più E quindi vi dovrò portare un'altra cosa alternativa quindi ho pensato a questo Beh ragazzi adesso vado iniziare il gioco se no quello lì non mi sente Bella raga Ah si e ci tenevo a dire passate su Instagram e andate a iscrivervi sull'account salvao 4201 Che non è altro che il mio account Eh niente basta Per domani mi sa che porterò GTA 5 o Rainbow come al solito Bella Ok ci sono fatto tutto Ma dov'è che sei? Ma a serio? E tu sei bandit Che ne fai? Ho sentito lo sparo No rufilo No rufilo Grazie a tutti. Ahahahah! Che sbirata! Che sbirata! Ahahahah! Guarda, guarda che sbirata, frate! Perché sono troppo forte! Sono troppo forte, punto fine! Comunque già sappiamo che tu fossi lì, eh! Grazie a tutti! Ti butti... Ehm... Tipo... Perché c'è il silenziatore? Questo accanto lo usavo giurati in chimera Chimera Ma mi spieghi dove eri cazzo? Sei passato dietro di me No, poi ci sono delle scale grandi Probabilmente ti sono anche passato davanti Però mi sa che sei cieco allora Guarda che ti ho visto, eh No Sì Ah, perché tu cosa hai fatto? Ho vinto Hai vinto pigliando l'ostaggio, coglione Basta covrare sul tetto che non capisco dove parti Ho sentito Ah, davvero? Come sono belli gli onovie Non in questi tra i hard Basta, coronare Non in questo caso Accedere va un culo stronzo bastardo gay e non sapevo fosse cosa cosa che imbocciai che imbocciai mamma mia hai visto che imbocciai vai a fare in culo questa la mandorla michael guarda che io ho battuto un toppe u non so è vero che non mi hai fatto anche un cazzo no che lo giuro con capis morf l'avevo trovato contro che ti stava facendo bussare mi sono e ho fatto anche uno di due il primo round e lui era vivo di la ho killato lui e poi mi ha detto che ti stava facendo tipo forza palermo non mi ricordo se non c'è danni il palermo il pallino è il pallino da piccolino se mi sono nascosto mi sono arrivati a 100.000 punti perchè l'ho raffredd io dai non sconchillare ma... ma faccio ancora eco io la salvo non lo so ah perchè... se no prima potevi sentire quello eh non lo so non ho detto mi ho colpito 3 a 4 volte ti baggiamo bene ti baggiamo eh si eh si devo ti baggare perchè? non posso ti baggare no ci pare che non posso ti baggare Ma va, tu non puoi ti bugare perché lo dice Barbieri qui Va bene, allora ti amo di nuovo Sì, però basta che stai calmo Capito? Capito? Tu? No! No, non ho capito cosa c'entra il b... Perché mi piace un cerchino? Perché mi piace un cerchino Mi hai stuprato male Mi hai stuprato male Onesta dai Ok, ciao Raga, il video termina qui perché devo andare a mangiare Quindi non si saprà chi vincerà questa partita Quindi seguitemi sul canale Instagram Salvao4201 Bella raga A partita di grazie Salvao4201 Grazie a tutti